Per noi che non siamo neanche un'azienda multinazionale sono fondamentali, ci permettono di concentrare le forze su determinate tipologie di aziende. Ad esempio noi targettizziamo le aziende con una soglia di fatturato sopra un determinato limite o con un numero di dipendenti di un determinato livello. Questo ci permette di andare a utilizzare i nostri agenti in maniera importante e targettizzando i nostri clienti. Sicuramente il sito dell'Istat in sé viene utilizzato, lo so che viene utilizzato anche perché permette di identificare determinati dati che sono fondamentali per la nostra attività.